il design e voi lo sapete? avete un'idea di tutto che ti è il design? ok vai dimmi per esempio arredare il design è pensare ad un oggetto, progettare un oggetto che sia da una parte funzionale che quindi ci sia un'esigenza dentro per questo oggetto e poi anche una parte estetica perché deve anche essere bello, deve anche essere curato in quella parte quindi ha due anime, funzionale ed estetica è un modello, è un prototipo, sapete cos'è un prototipo? si, tipo che assomiglia qualcosa ma non più giuro il prototipo fanno una cosa fatta di legno che non funziona ma poi la realizzano con materiali e la fanno funzionare dentro ad un museo perché in realtà tutti questi oggetti hanno un valore storico e artistico perché hanno vinto un premio sapete come si chiama il premio del design? no la piazza qua fuori sapete come si chiama? no si chiama compasso d'oro che è il premio del design come è fatto a vincere una bilancia al compasso d'oro? un progetto molto fatto bene? si allora quando tu vuoi tirare c'è una percentuale se vuoi fare si prendi qua o se vai fuori spiega un attimino come è fatta la tua barca allora io sbora da qua e da qua e io posso fare qualcosa ciao Grazie a tutti.